La borsa Rullo è stata progettata per i viaggi all'una che correnza, ma la sua versatilità e le elevate prestazioni rendono questo prodotto adatto ad ogni uso. Facilità e velocità nel montaggio fanno della Roll Bag uno dei bagagli privilegiati perché intende il viaggio come una filosofia di vita. L'installazione di questo accessorio è semplice ed intuitiva. Iniziate per posizionare la borsa sulla parte posteriore della sella, orizzontalmente. Dopodiché fate passare la coppia di tiranti elastici all'interno dei passanti in tessuto presenti sulla parte posteriore della sacca impermeabile. In questo modo otterrete due cinghie parallele e perpendicolari alla vostra borsa. A questo punto non vi resta che agganciare le estremità delle due cinghie al telaio della vostra moto, facendo attenzione a non intralciare la vostra posizione di guida. Quindi accertatevi che la tensione dei tiranti sia sufficiente a mantenere la stabilità della borsa durante la marcia. Un ultimo controllo e buon viaggio.